Allora, in pausa pranzo con gli interisti, che sono sempre qua, presenti, e mi sono dovuto guardare il sorteggio con queste due brutte persone, che hanno provato a gufarla un po', però com'è andata signori? Cosa dite voi da interisti? Ormai la finale è vicina. La finale, perché ricordiamo la Juve ha beccato l'Ajax, se vince va contro la vincente di Manchester City o Tottenham, dall'altra parte Liverpool con il Porto e il Barcellona con il Manchester United. Quindi potrebbe essere sulla carta, un'ipotetica, se la Juve va tutto bene, Ronaldo Messi o Ronaldo Salah, una cosa del genere. Secondo voi quindi è già scontatissima? È l'anno buono. È l'anno buono. È l'anno buono, Luca. Sì, lui è sempre Fabio, che ricordiamo aveva. Sì, io ragazzi l'ho detto che passava da Juve contro l'Atletico, ma quando ancora ce l'ho da rimontare il 2-0. Ma dovevano ancora fare l'andata. Sì, dovevano ancora estrarre. Siete in finale, ragazzi. Siete in finale, lì potete solo fare un risultato. Il risultato? Perché, come ricordo al motto della Juve, vincere non è importante l'unica cosa che conta, ma se sei in finale di Champions, diciamo che lì invece la puoi perdere. Tutto sommato, l'Ajax, vabbè, avrà buttato fuori da Madrid, una squadra potrebbe essere pericolosa, giovane corrono, va bene. Però arrivati a questo punto, se la Juve vuole vincere la Champions, c'è poco da fare. Deve batterle tutte. Quindi una valeva l'altra. Sicuramente sono contento. Avrei preferito il Porto. Voi avreste preferito forse il Barcellona. Cosa dite? Beh, il Barcellona, noi le abbiamo anche battute. Finché anno che non mi ricordo. L'anno del triplete, mi sembra. Che quest'anno non potrete fare, in nessun modo. No, infatti forse voi ti fate Juve quest'anno. Allora, se proprio dovete vincere la vincenza da quest'anno. Questa è una missione, ragazzi, di... Quest'anno dovete vincerla, così poi basta, avete finito di rompere le scatole. Grazie Fabio, è stato molto importante per me.